Sono arrivati nel pomeriggio di ieri a Montori Alvomano i primi profughi afghani che per qualche settimana saranno ospitati in un hotel del posto. Sette nuclei familiari per un totale di 24 persone, tra cui diversi bambini, provengono già vaccinati dal campo di accoglienza di Avezzano, dove sono giunti dopo la fuga dei talebani. I profughi arrivati da Erat in Afghanistan, dove c'è stata per anni la base militare e ognuno di loro ha lavorato con gli italiani, presupposto che ha permesso di salire sull'aereo della speranza, come lo hanno definito, ma anche l'elemento che li rende perseguibili dalle milizie talebane, che sicuramente non vedono bene coloro che hanno avuto rapporti con gli alleati. Ne arriveranno altri nei prossimi giorni, abbiamo da subito dato la massima disponibilità alla protezione civile regionale, al presidente Marsilio, Montorio crede molto nella solidarietà, l'accoglienza, l'aiuto e ricordiamo che queste sono persone che lavoravano a fianco di italiani, americani, inglesi e francesi. Sono andato a incontrare queste famiglie, alcuni parlano italiano perché lavoravano con gli italiani, ci sono diversi bambini, è iniziata una macchina della solidarietà commovente per chi vuole donare giocattoli, chi vuole donare vestiti, tutti gli aiuti necessari da chi? Da cittadini normali, da grandi aziende, dalla Curia, ringrazio anche il Vescovo che mi ha subito contattato, il parroco locale Don Paolo e questo ci fa capire che non solo Montorio ma l'Abruzzo è una grande terra di accoglienza ed è un messaggio positivo che stiamo lanciando a tutto il territorio perché questo è solo il primo passo, sicuramente avremo dei momenti più difficili dove arriveranno più persone, non solo a Montorio, in Abruzzo ma in Italia, però siamo credo da esempio, questa è una cosa che ci deve inorgoglire, non solo Montorio ma tutto l'Abruzzo. Lei ha incontrato direttamente queste persone che sono arrivate e cosa le hanno detto? Sono anche loro emozionati per l'accoglienza, sono sicuramente in grande difficoltà, hanno un grande punto interrogativo sul loro futuro, tutto quello che hanno lasciato dietro, però anche grande fiducia che ho cercato di trasmettergli perché non è solo un'accoglienza di facciata ma un'accoglienza vera di persone che ripeto hanno lavorato a fianco di italiani negli ultimi 20 anni.